Carissimi amiche e carissimi amici, buongiorno dal vostro caro Giocherellone che oggi vi porta un titolo che ha fatto veramente la storia dei videogiochi Disney. Pensate un pochettino sviluppato addirittura dalla Eidos, stiamo parlando della carica dei 102. Uno dice su Giocherellone ma la carica dei 101 è il film della Disney, cosa c'entra questa carica dei 102? Dovete sapere che in realtà fu fatto un seguito per il mercato, mi sembra, home video di questo incredibile, ovviamente, cartone animato che si chiama appunto la carica dei 102. Quindi il seguito, giustamente, 101, il primo episodio, 102, ovviamente, e il secondo episodio fu fatto, mi sembra, addirittura un secondo film con attori reali. Pensate un pochettino sulla carica dei 101 e dei 102. Vabbè, Disney 102 è Dalmatis Puppies to the Rescue, quindi i cuccioli vanno a cercare di recuperare i grandi. La mamma, mi sembra, il papà, dei 100 e passa cuccioli, praticamente, sono stati praticamente rapiti. In realtà non è proprio così, nel senso che non è che ha fatto 102 cuccioli, praticamente. Praticamente è un insieme di cani, praticamente di cuccioli, di cani e di due adulti, di due adulti, praticamente, che tra loro vengono praticamente smerciati da questa, ovviamente, da questa Crudelia de Mons, che è praticamente la signora dei cani, praticamente, la signora dei cani. Dopo la signora arriva la signora dei cani, dopo la signora del gioco arriva la signora dei cani. Pensate un pochettino, avete capito bene? In questo gioco, ovviamente, di grafica veramente spettacolare, uscito sia per PlayStation che addirittura PlayStation 1 e, ovviamente, Sigla Dreamcast, che questa versione, sicuramente, questa è la versione migliore del gioco. 102 Dalmatis Puppies to the Rescue, veramente un gioco da una grafica spettacolare, un vero e proprio cartone animato, bellissimo, ovviamente, i modelli tridimensionali dei cani, ma ancora più belli, ovviamente, gli scenari, si possiamo dire, avete a tutto il gioco, ovviamente, ha un'ottimissima risoluzione. Caricamenti, praticamente, lampo, grazie al lettore GD-ROM, la versatilità della Dreamcast, ci sono anche questi artwork molto, molto belli, legati, associati proprio alla carica, appunto, dei 102. Questo incredibile titolo, vedete un pochettino cosa dobbiamo fare, dobbiamo andare, quindi, a prendere questi ossicini, dobbiamo, quindi, recuperare poi dopo i cagnolini. E questo è, praticamente, il gioco, un gioco, sicuramente, fatto maggiormente per i giovani, per i giovani, per i piccoli, per i giovani, molto, molto bello da giocare, grafica anche di un certo impatto, dobbiamo dire, la verità, quindi, una fascia di età sicuramente bassa, per quanto riguarda l'utenza, ma la grafica, veramente, è un cartone animato. Ancora oggi, questo è uno dei giochi più belli basati sul mondo Disney, avete capito bene, quindi, sicuramente, se avete visto il cartone animato, avete visto i film, non posso che, sicuramente, consigliarlo. Vedete, ragazzi, recuperiamo questi piccoli cucciolotti e poi continuiamo nella nostra incredibile epopea, diciamo, fatto addirittura dalla Eidos. La Eidos era la casa, era la casa di distribuzione, pensate un pochettino, della mitica, del mitico Tomb Raider, quindi, pensate un pochettino a chi c'era dietro, ovviamente, questa distribuzione, sviluppato dalla Disney, ma poi, dopo, ovviamente, divisione della Disney videoludica e poi distribuito dalla Eidos. Grandissimo prodotto, un grandissimo prodotto che ricorda molto, se vedete, addirittura Kingdom Hearts, avete capito bene, ragazzi, Kingdom Hearts, che poi porteremo, porteremo tutti gli episodi di Kingdom Hearts, proprio su questo fantastico canale del Giocherellone. Quindi, giustamente, se vi piacciono, ovviamente, queste tipologie di videogiochi, non posso che invitarvi, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi, a iscrivervi su questo canale. Vedete un pochettino tutta la magia, praticamente, del prodotto Disney, è qui presente, addirittura, non c'è violenza, c'è solamente simpatia, allegria e spensieratezza. Certo, un mondo, sicuramente, un mondo poco, poco realista, però, sicuramente, per i fancioli va più che bene, va più che bene un mondo del genere. Avranno modo di vedere le bruttezze dell'esistenza nel tempo, per fortuna, possiamo ancora farli sognati, possiamo rendere spensierati e sicuramente fargli avere un approccio alla crescita sicuramente più piacevole rispetto, ovviamente, a un'età sicuramente maggiormente adulta. Iniziamo a giocare, possiamo andare addirittura nelle opzioni, dove c'è addirittura la possibilità di mettere la vibrazione. Se avete un Rumble Pack, praticamente, si metteva all'interno del Joyper, per Dreamcast, Thunderbolt in Space, praticamente, come potete vedere, grafica totalmente tridimensionale, con alcuni elementi di sfondo e texture di alto livello, questo perché la Dreamcast poteva, praticamente, fare di tutto e di più. I due cucciolotti, praticamente, insieme agli altri cucciolotti, stanno parlando, stanno dialogando, stanno perdendo il loro tempo sulla televisione. Ogni cucciolotto ha, praticamente, un collarino, nasce l'amore, nasce l'affetto tra questi due cuccioli, praticamente, di Dalmata, praticamente, che poi dopo si troveranno, adesso, purtroppo, a fare una grande missione. La cucciolotta va a scavare, purtroppo, che cosa fa? Che cosa sta facendo? Praticamente, sta disotterrando Crudelia de Mons. Crudelia de Mons, che è, praticamente, la cattiva del gioco. Ecco, mamma mia, quanto sei brutta, purtroppo è brutta di nome, brutta di comportamento. E, intanto, Crudelia, dal naso, ovviamente, a scimmia, come potete vedere, il naso rifatto, ovviamente, perché aveva dei complessi, sicuramente, che cosa va a fare? Che cosa va a fare, praticamente, va a, diciamo, a cercare di fare delle cattiverie, praticamente, di andare a pagare le persone per rapire questi poveri cucciolotti. Come potete vedere, sembra un vero e proprio cartone animato, un cartone animato poligonale, dobbiamo dire la verità. Vedete, con queste manine, con questi guantini, con questo farda, addirittura questa pettinatura a pianco-nera, quasi da mostro, praticamente. Crudelia de Mons, è una persona che si è dimenticata di farsi la tinta, praticamente. E user Gabriele, ragazzi, è arrivato Gabriele. Caro Gabriele, come stai, caro Gabriele? Buongiorno a te. Oggi ti porto, addirittura, in La Carica dei 102. Hai visto La Carica dei 102? Spero di sì. Un ottimo cartone animato per bambini, è stato fatto anche un film con attori veri sulla Carica dei 102, che ti posso sicuramente consigliare. Fu fatto anche, come puoi vedere, il gioco. Il gioco uscì su PlayStation 1 e la versione Dreamcast, ancor più bella, ancor più possente, ancor più potente che questa qua, praticamente, per Siga Dreamcast. Molto, molto gradevole, molto, molto bello. Un gioco ricco di storia, ricca di etica, ricca di morale. Penso un po' che ti user Gabriele, ti posso dire una cosa, anche due, caro user Gabriele, ragazzi. Dici tutto quello che vuoi, su questo canale siamo tantissimi, anche se adesso ci sei solo tu. Forse ci sei solo tu, perché gli altri sono impegnati, oppure gli altri stanno solamente visionando. Come puoi dire, ci sono centinaia di persone che stanno vedendo in tempo reale questo incredibile videogioco. E ancor di più, ancora di più, guarda, guarda, incredibile, ancora di più stanno, vogliono partecipare, vogliono giocare anche loro, ma non possono farlo, perché si trovano, purtroppo, in una situazione molto, molto brutta. È il palloncino, praticamente. Andiamo avanti, ragazzi, ecco qua, ti saluta Marco Sernaggiotto. Ragazzi, salutiamo il mitico Marco Sernaggiotto. Caro Marco, buongiorno a te, non sei al momento presente sul canale Giocherellone, ma io ti saluto. Il tuo amico, il Giocherellone, ti saluta e ti invita a venire anche a te sul suo canale, sul suo canale, a fine di giocare virtualmente anche con lui. Perfetto, ragazzi, avete visto, possiamo fare dei minigames, possiamo andare sugli sticker, andiamo all'interno, praticamente, di questo ambiente, al fine di recuperare ossa e cani. Avete capito bene, ossa e cani. Grafica di altissimo livello, parti di storie, il cocorito, praticamente, il pappagallo, ragazzi. Il pappagallo, non quello dell'ospedale, per fortuna, ma il pappagallo, praticamente, il pappagallo animale. Praticamente, pensate un pochettino alla scimmia, il pupazzo della scimmia, scimmia95. Cercate la canzone di scimmia95 sul mio canale e vi divertirete, oppure andate a comprarvi il pappagallo, non l'animale, in questo caso l'elemento, che vi servirà forse un giorno in ospedale o addirittura a casa, quando avete problemi, ovviamente, a fare la plin plin. Pensate un pochettino, pappagallo gigante. Guardate quanto è grande il pappagallo rispetto al cucciolo di cane. Quanto è grande questo pappagallo? Due metri. Due metri di pappagallo. Quanto costa, purtroppo, lo smercio degli animali di razza. Ecco qua, il pappagallo, subito, cerca di fare di tutto e di più. Il povero cane, praticamente, dice, ciao, ciao, sono un cane. Che cosa posso fare con te, caro pappagallo? Il pappagallo è pronto, praticamente, è pronto, ovviamente, a dargli tanti consigli, a dirgli, ovviamente, che cosa deve fare. Incredibile, possiamo saltare, abbagliare, guarda l'abbaio, guarda che abbaglio possente. E addirittura andare, praticamente, ad annusare le tracce per capire dove dobbiamo andare. E addirittura la tecnica del rotolo, guarda, è un gioco, hai capito bene, caro user Gabriele, e la carica dei 102 per Siga Dreamcast, veramente incredibile. Guarda, c'è anche la palla alla Sonic, quindi hanno inserito, veramente, il cocorito, praticamente, dovete fare l'abbaio, praticamente, con l'abbaio buttate via questi incredibili. Mamma mia, ragazzi, guarda, chi è, chi è con lui? Guardate un pochettino il piccolo scogliattolo, caro user Gabriele. Ecco qua, vedete un pochettino, caro user Gabriele, vedi, è arrivato lo scogliattolino che ti dice tante belle cose carine. Il caro Dalmata, invece, gli dice, gli dice, guarda, guarda, io ho da fare, devo andare, praticamente, da qualche parte, devo recuperare i miei amici, i miei fratellini, praticamente, le mie sorelline, che hanno rapito, addirittura in più, devo anche prendere il grande, il grandissimo, ovviamente, ossicino. Andiamo qui dentro nella cassa armonica, questa qua si chiama cassa armonica, lo sapete, in genere viene messa al centro di un parco e venivano fatte all'interno i concerti. c'è anche a Napoli, praticamente, nella cassa armonica del coso, praticamente, come si chiama? E ho il cane, il cane, il cane mi sta facendo male, ragazzi, molto triste questa parte qua. Come ti chiami? Mi chiamo Giocherellone. Mi chiamo Giocherellone, il tuo amico. Mamma mia, ragazzi, guardate un pochettino qui sopra cosa ho fatto. Abbiamo liberato, caro user Gabriele, il mitico primo cane. Pensa un pochettino, andiamo ovviamente a rotolare, ci prendiamo gli ossicini. Vedete come mangia questo cane? Molto un gordo, si potrebbe dire. Attenzione, ragazzi, il piccione con la fava. Il piccione con la fava, che cosa sei piccione? Attenzione a questo piccione, la macchiniella. Mamma mia, povero, guarda qua, guarda, user Gabriele. Cosa è successo? A questo povero, ovviamente, cagnolino. Più proprio il pappagallo, il pappagallo, ovviamente, non è quello che pensi tu, carissimo Gabriele. Ragazzi, andiamo a vedere un attimo se possiamo recuperare gli ossicini, ma in realtà le abbiamo già recuperate. Quindi rimangono solamente i nemici, dobbiamo stare molto, molto attenti. Attenzione alla macchinina, vedete un pochettino qui, la bistecca. La bistecca che ci permette di recuperare le energie, ma avendole, praticamente, avendole tantissime, non abbiamo di questi problemi. Attenzione alla macchinina, mamma mia, mi fa male, mi fa male la macchinina. Abbiamo preso, abbiamo preso, praticamente, caro Gabriele, vedi un pochettino gli ossicini. Gli ossicini che andiamo a prendere, praticamente, qui sopra, e addirittura ci facciamo un bagno dentro l'acqua, Gabriele. Sì, hai capito bene. Dentro l'acqua, vedi, vedi, vedi il cagnolino, come va a qui sopra, praticamente, a fare, a fare, praticamente, a fare di tutto e di più. È veramente bello. È veramente bello. Attenzione alla zampetta del cane, alla zampetta. Eccolo qua, praticamente, lo scogliatto. E dove abiti? Abito in Valtellina. Ti piace la Valtellina, Gabriele? Ecco qua, la Valtellina si trova in Alta Lombardia, al confine con la Svizzera. Hai capito bene? Quindi hai capito bene dove io sono posto. Andiamo avanti con lo scogliattolello, praticamente, qui sopra, che ci racconta tutti i fatti suoi e di, ovviamente, tutti gli inciucetti, gli inciucetti locali, praticamente. Guarda che belle le texture, che sono le immagini bidimensionali che rivestono i poligoni. Vedi, vediamo anche il senso di tridimensionalità. Carissimo Gabriele. E qui possiamo addirittura ruotare con i trigger, praticamente, tridimensioni, diciamo, laterali. Possiamo ruotare. Guarda un pochettino, caro Gabriele. La visuale. Hai capito bene? Abbiamo liberato un altro cane, un altro cucciolo di Dalmat, un altro fratellino, sorellino. Praticamente, vedi un pochettino, io ho il gesso sul piede. Ah, mi dispiace, Gabriele. Questa cosa non lo sapevamo, ragazzi. Povero Gabriele. Sicuramente ti rimetterai presto. Non ti preoccupare, Gabriele. Purtroppo, purtroppo, a volte, possono accadere degli eventi spiacevoli. L'importante, l'importante, sicuramente, è sempre quello di rialzarsi nella vita. Andare avanti. Sai come si dice, Gabriele? Si dice, cadi una volta, ti rialzi undici. Ecco qua, purtroppo, a volte, nella vita, possono accadere queste cose. Non ti preoccupare. Andrà tutto bene. Ecco qua, addirittura. Guarda qui, Gabriele. Ti faccio vedere il giocherellone. Guarda un pochettino che cosa ti fa vedere. Andiamo a distruggere. Abbiamo liberato un altro. Lo tolgo il 15 maggio. Non ti preoccupare. Sono giornate. Giornate che, se rimarrai sul canale del giocherellone, sicuramente. Cercherò di allietarti, facendoti vedere tanti videogiochi. Tanti videogiochi. Qui ci sono tanti amici. Dove hai comprato questo gioco? Questo gioco l'ho comprato usato. Caro Gabriele, questo perché, praticamente, il tuo amico il giocherellone preferisce comprare i giochi usati. Costano poco. Ah, il mio vero nome. Mi chiamo Luca. Preferisco comprare i giochi usati. I giochi usati mi permettono di risparmiare, praticamente. E, tendenzialmente, sono uguali ai giochi, praticamente, nuovi. Tranne, ovviamente, alcuni, diciamo, cosiddetti truffette che possono avverarsi. Praticamente, mamma mia, ragazzi, l'abbiamo buttata via la scimmia. Guardate un pochettino. Molto triste questa parte qua. Guardate, la scimmia a tutta forza. Vai con la scimmia e la scimmia non riesco a pigliarla. Ecco, qua ce l'ho fatta. Quindi, caro Gabriele, caro Gabriele, preferisco giocare, comprare i giochi, appunto, usati. Penso un pochettino. Non ce la faccio. Luca, tuo nonno. No, 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 no. Non mi chiamo così. Mio nome è un altro, praticamente. Però ti basti sapere che mi chiamo Luca. È veramente bellissimo, caro Gabriele, questo gioco. Spero che ti piaccia. Quindi questo gioco lo dedichiamo proprio a Gabrielino. A Gabrielino. E vai, 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 vai. Il grande dalmata che non ce la fa. Abbiamo preso addirittura la vita. Pensate un pochettino. Quello ci vuole catturare. Ragazzi, è una situazione molto triste. Praticamente abbiamo preso l'osso. Pialò. Mamma mia, Gabriele. Guarda qui, guarda qui. Molto triste. È un luogo di dove io non è. Ciao, sono Gabriele. Ciao, sono Gabriele. Ciao, sono Gabriele. Ciao. Va bene, caro Gabriele. Ecco qua, va bene, carissimo Gabriele. Guarda qua. Colpendo i nemici, caro Gabriele, che cosa andiamo a fare? Andiamo a recuperare le ossa. Pronto, Gabriele, vai. Abbiamo liberato un ennesimo cucciolo. Vedi, dobbiamo liberare tantissimissimi cuccioli. Stiamo attenti al pappagallo. Guarda il pappagallo che ci permette appunto di salvare. Quindi possiamo salvare la nostra posizione nel caso in cui possiamo andare. a morire. I salvataggi sono molto rapidi perché la sigla Dreamcast è una console molto, molto potente. Penso un pochettino, carissimo Gabriele. Gabriele, Gabriele Acirno è mio. Gabriele Acirno è molto bello, molto bello come nome. Complimenti alla mamma e papà di Gabriele che sicuramente gli hanno dato questo nome. Praticamente questo nome. E ovviamente, ovviamente il caro Gabriele. Ovviamente il caro Gabriele adesso si allieterà sul canale del giocherino. Guarda qui, Gabriele. Un luogo segreto, addirittura cognome. Abbiamo capito, abbiamo capito. Andiamo praticamente da queste parti qua. Caro Gabriele, guarda dove sono uscito. Sono uscito di nuovo dove stavo prima. Però qui ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Quindi dove devo pormi? Dove devo andare? Praticamente, carissimo Gabriele, devo pormi. Praticamente in questa parte qua. In questa parte qua. Guarda il piccione, il piccione, il piccione. Mamma mia, il piccione fa paura. Il piccione fa paura. Mamma mia, ragazzi. Guardate la macchinina telecomandata, ma questa settimana addosso ti fa basta dire Gabriele. Non devo dire più Gabriele. Pensavo ti piacesse sentire praticamente il tuo nome. Non lo so se non ti piace più. Però come ti posso chiamare Gabriele? Ecco qua. Come posso chiamarti? Altrimenti non lo so. Ecco qua. Tipo user. Che ti chiamo? User ti chiamerò user. Allora. Ecco qua. In una maniera ti devo chiamare praticamente. Se parliamo, se parliamo come faccio a non chiamarti? Guardate qui ragazzi. Guardate qui un ennesimo praticamente cucciolo ancora una volta salvato. Andiamo avanti e buttiamoci praticamente qui. Abbiamo completato questo incredibile livello. E veniamo teletrasportati all'interno del mondo della magia. Vedete un pochettino veramente fantastico. Guardate carichami. Sono Gonzalo. Gonzalo ti chiami di nome? Il Gonzalone. Ecco qua. Guardate un pochettino il nostro cane ovviamente con la sua coda. Che è pronto praticamente a entrare in un nuovo mondo. Avete capito bene il nuovo mondo? E troviamo il gatto. Il gatto con gli stivali. No ragazzi. Un gatto con le orecchie praticamente. Con il pelo. No. Sono Gabriele. Quindi sono Gonzalo. Gabriele Gonzalo praticamente. Gabriele Acierno è il tuo cognome, il tuo nome. Ma il Gonzalo praticamente. Ti chiamerò, ti chiamerò Gonzalo praticamente. Allora come vuoi essere chiamato? Caro Gabriele guarda. Guarda qui Gabriele. Guarda Gabriele. Mamma mia ragazzi. Mamma mia il pupazzo. Il pupazzo con la gomma in testa praticamente. E non ce la facciamo a buttare il pupazzo. Questo pupazzo è molto pericoloso ragazzi. Perché il cucciolo non ce la fa. Guardi vedete un pochettino Gonzalo. Non è il mio nome. Perché vuoi essere chiamato Gonzalo? Ti piace essere chiamato? Il tuo nickname vuoi essere chiamato Gonzalo? Praticamente. Non ho capito Gabriele. Scusami. Non riesco a capire. Forse i cuccioli mi stanno portando a una confusione. Ovviamente andiamo praticamente da questa parte qua. e vediamo che cosa possiamo fare. Guardate qui. Guardate qui. L'ossicino. L'ossicino magico praticamente. Ce ne andiamo praticamente da questa parte qua. E andiamo a cercare di capire che cosa altro fare. Praticamente attenzione. Attenzione al cucciolotto. Al cucciolotto. Andiamocele praticamente da questa parte qua. Pogliamo l'ossiccello. Pogliamo l'ossiccello e cerchiamo anche di saltarcene. Praticamente di saltare praticamente da questa parte qua. Lo scivolone. Lo scivolone. Vedi un pochettino. Mamma mia ragazzi. Guardate come scivola il cane. Guardate come scivola il cane. Andiamo praticamente qui sopra. Cerchiamo ovviamente di andare. Aghia, 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 non riesco. Non rima che scivola sto cane. È un cane scivoloso ragazzi. Avete capito bene. Cerchiamo di capire come entrare praticamente qui sopra. Quindi se io vado qui sopra praticamente cosa vado a fare? Cosa vado a fare? Mi butto praticamente qui sopra. Vedete? E qui so. Mamma mia il cane che è veramente incredibile. Questo cane, guardate un pochettino, è un pazzariello. È un cane pazzariello. Attenzione ovviamente al super computer. Ovviamente anche al super pagliaccio, praticamente al super joker. Super joker ragazzi. Dobbiamo buttarci praticamente qui. Mamma mia non ce la fa. Non ce la fa praticamente a buttarsi da questa parte qua. Dobbiamo salire praticamente da quest'altro luogo. E dobbiamo passare addirittura ragazzi. Guardate un pochettino qui dentro all'interno di un luogo sacro. Praticamente. E ci troviamo qui dentro ancora ragazzi. È veramente la gattina. La gattina col cagnolino. Veramente una situazione particolare. Una situazione anche bellina. Vedete? Un pochettino con la gattina che ci dice tante cose. Ciao come stai? Sono la gattina praticamente. Vi ricordate che c'era quell'utente che aveva come nickname la gattina? E tutti quei giochi sui gatti. Che sicuramente vi hanno fatto ridere e scherzare. Vi hanno portato la grande lieta notizia. Ecco qua. Vediamo un pochettino dopo questi incredibili dialoghi. Ovviamente basati sull'amore. Sull'affetto. Sulla grande sinergia. Praticamente tra gatta e ovviamente cane. Dobbiamo capire che in realtà tra questi due animali forse, forse ci potrebbe essere praticamente un affetto. Forse ci potrebbe essere l'amore. Forse ci potrebbe essere una lieta notizia. Guardate il trenino ragazzi. Veramente bellissimo il trenino. Andiamocene quindi a picchiare ovviamente il bisteccone. Il bisteccone, il salsicciotto praticamente qui sopra. E oh stiamo cadendo ragazzi. Piglia gli ossi. Piglia tanti ossi praticamente in bocca. Praticamente piccolo cane. Vedete un pochettino il cane. Veramente molto molto voglioso praticamente di mangiare questi ossa. Ossa secche praticamente del cane. Infatti un animale. Non so se lo sapete. Un animale predatore ragazzi. Guardate qui che bello. Sì è un gioco. Hai capito bene caro Gabriele. È proprio un gioco. Un gioco dei Dalmata. Vedi un pochettino. Di piccoli cuccioli di Dalmata. Veramente bellissime. Guardate quelle palle. Ecco qua quelle sfere. Praticamente qui sotto. Ecco qua una grande. Il grande serpentone. Il grande serpentone. Vedi un pochettino qui sotto. Andiamo ovviamente a scenderci. Ne stiamo attenti ovviamente a questa parte qua. Il cane non si fa niente. Non si fa niente. La gattina è ritornata ragazzi. Che ci racconta tante incredibili notizie. Dobbiamo dire la verità. Ci sta dicendo delle cose. Ci sta dicendo dove ci sono i nostri amici. I nostri cucciolotti. I nostri fratellini. E le nostre sorelline. Quindi questo ovviamente è il momento. È il momento per capire determinate cose. E per capire come ovviamente recuperarli. Perché senza la possibilità di recuperarli. Ragazzi faremo veramente una brutta fine. Faremo una brutta fine. Vai qui sotto. Il bombolone. Il bombolone spara le palle. Spara squirta. Squirta. Squirta le palle. Praticamente guarda qua. È diventato uno sparatutto in prima persona. Che grande divertimento. Un gioco sicuramente per fanciulli. Che fa ridere. Che fa scherzare. Che fa. Che porta la lieta notizia. Mamma mia. Abbiamo rotto tutte le palle. E guardate che cosa abbiamo vinto. Un cucciolo in scatola. Addirittura un po' brutta come situazione. Un po' brutto ovviamente il fatto che abbiamo rapito. Ovviamente il cucciolotto. Praticamente invece l'abbiamo fatta. Vedete un pochettino. Andiamo ovviamente a rotolare. E l'abbiamo liberato. Finalmente il nostro fratellino. La nostra sorellina. Che se ne va praticamente qui sopra. A fare veramente di tutto. Qui sotto abbiamo anche un'altra possibilità. Vedete il bombolone. Praticamente il bombolone. Lo spara palle. Praticamente lo spara palle. Vedete un pochettino quest'altro essere. E finalmente ce ne possiamo andare qui dentro. Dove addirittura troveremo. Che cosa vi avevo detto. Che il gioco era stato fatto. Addirittura dal mitico team. Della Eidos. Praticamente. Dal team dell'Eidos. Praticamente c'è un po' di Tombrader in tutti noi. Dobbiamo dire la verità. Guardate qui sopra il cagnolello. Il cagnolello. Ovviamente. Ah. Affacciamo. Affacciamo. Ah no 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 no. Che cosa fai. Il grande cacciatore. Il grande cacciatore. Vedete. Addirittura il panino. Che ci permette di recuperare. Un po' di neggio. Gabriele Acerno. Gabriele. Grande Gabriele. Che ha cambiato nick. Il grande Gabriele. Prima era user Gabriele. Grande Gabriele. Finalmente sei il vero Gabriele. Adesso il vero Gabriele è con noi. Praticamente. Gabriele Acerno. Il nostro carissimo amico. Praticamente. Che purtroppo ha avuto dei problemi qui sopra. Con la gambina. Praticamente ragazzi. E speriamo. Ovviamente si rimetta veramente presto. Caro Gabriele. Al fine ovviamente di andare praticamente a recuperare la funzionalità motoria della coscia. Praticamente vedete ragazzi. Guardate un pochettino. Che cosa. E ce l'abbiamo fatta. Guardate un pochettino questo. Perché abbiamo trovato un ennesimo cucciolo. Veramente siamo molto molto bravi a giocare. Vedete un pochettino. Prendiamo i cucciolotti. E ce la possiamo fare. Carissimo Gabriele. Guarda qui. Guarda qui. Guarda. Andiamoci praticamente di qua. Vediamo un pochettino che cosa c'è. Eccolo qua. Caro Gabriele. Come stai caro Gabriele Acerno. Andiamoci praticamente a quest'altra parte qua. Dobbiamo capire un attimo. Che cosa c'è da fare. Da compiere praticamente in questo incredibile stage. Andiamoci di nuovo qui. La musica è anche molto simpatica. Grafica. Veramente a cartone animati. Con questo cucciolo. Che veramente ci fa capire tante cose dell'esistenza umana. Ecco qua. Ovvero che a volte bisogna avere il coraggio di fare. Il coraggio di fare. Andiamoci a piegare. Guardalo. 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 Gabri. Gabri. Mamma mia. Un calcio nel sedere. Praticamente al grande cucciolone. Al grande cucciolone. E di qua dobbiamo capire. Avete visto. Avete visto. Ve l'avevo detto che voleva il gioco. Ve l'avevo detto. Ve lo ricordate quella signora che diceva che voleva il gioco. Ecco qua. Voleva il gioco. E andiamo. Ah ragazzi siamo caduti. Siamo caduti con la bocca a terra. Dobbiamo dire la verità. Qui ci sono praticamente due buchi. Quale sarà il buco vero? Sei bravo. Ho giocato a tanti videogiochi. Gabriele e caro. Ecco qua. Guarda un pochettino dove stiamo andando. Qui in una specie di Luna Park. Oh la gattina. La gattina. Guardate un pochettino. Guardate che bella grafica. Sembra veramente un cartone animato. Infatti il caro Gabriele aveva detto. Giocherellone. Giocherellone. Ma è un cartone animato o è un videogioco? Ecco qua. Quindi era molto curioso il caro Gabriele. Ovviamente di sapere qual era la verità. La verità. Praticamente ecco qua. Che cosa sei tu? Che cosa sei tu? Il bombolone. Praticamente. Guarda il bombolone. Guarda il paninone. Il panino. Guarda un pochettino. È veramente incredibile. Dobbiamo dire la verità. E fa ridere. E fa ridere. E fa scherzare. Praticamente questi sono i giochi belli. Sicuramente per i fanciulli. Per i ragazzi più giovani. Che sicuramente hanno. Ovviamente devono aver amato. Devono aver amato. I film della carica. Dei 101 e dei 102. Dobbiamo dire la verità. Altrimenti sicuramente. Forse non possono apprezzare. Questo prodotto. Guardate un pochettino. Qui sopra cosa succede ragazzi. L'ascensore. Guardate la gattina. Che ci racconta sempre i fatti suoi. Un po' pettegola questa gattina. Dobbiamo dire la verità. Ma noi gli vogliamo bene. Le vogliamo bene. E quindi ovviamente. La secondiamo. Quello che va ovviamente a dire. Un pochettino come quegli amici. Come quei parenti. Che a volte ci ripetono sempre le stesse cose. E noi diciamo. Va bene. Ecco qua. E quindi andiamo qui sopra. Con la macchinina. La macchinina ovviamente esplosiva. Dobbiamo compiere praticamente. Una cosa molto particolare. Io prima andrei praticamente qui sopra. A cercare. A cercare di prendere di tutto e di più. Guardate il saltarello. Il saltarello di qua. I pianeti. I pianeti terra. Prendete un pochettino. Il bombolone. Guardate il bombolone. Guardate il bombolone. Guardate è bello. Ecco qua il bombolone. Il cane volante. Guarda il cane volante. Boom. Ecco qua il cane volante. Non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la fa. E ce l'ha fatta. Sì. Prendiamoci un passaggio. Ragazzi. Prendiamoci il passaggio col cagnolino. Ecco qua. Addirittura possiamo. Ti butti. Ti butti nell'ultima stazione. E lasciamo praticamente il treno. Guardate qui ragazzi. Dove siamo arrivati nel gioco. Nel gioco di Crudelia de Mons. Crudelia de Mons. Crudelia de Mons. Ecco qua. Il grande tostarello. Il flipparello. Che ci utilizza praticamente al fine. Al fine di prendere praticamente tutte queste ossa. Per fare che cosa. Una specie di bonus game. Dobbiamo dire. Avete avuto un pochettino questo cagnolino. Che ovviamente cerca in tutte le maniere possibili. Di essere attaccato praticamente da noi. Per fare che cosa ragazzi. Come potete vedere. A fare di tutto e di più. Sta andando ovviamente a male. Prendete questa parte qua. Dove andiamo praticamente qui sopra. A prendere. A prendere. Ovviamente. Vedete ragazzi. Guardate un pochettino. A prendere ovviamente tutti questi elementi. Tutti questi elementi. Dappertutto. Dobbiamo dire. Avete. Perfetto. Andiamocene quindi da questa parte qua. Vedete un pochettino che cosa abbiamo. Abbiamo praticamente. E stiamo. Ci stiamo divertendo. Ci stiamo divertendo. Perché qui sopra. Qui sopra. Ovviamente ragazzi. C'è qualcosa. C'è qualcosa di veramente simpatico. Luca. Qual è il tuo cognome? Il mio cognome. In realtà è un po' segreto. Caro Gabriele. Ecco qua. Non tendo a dirlo. Ovviamente. Ovviamente. Se vai a vedere i miei libri che ho pubblicato su internet. Puoi vedere anche il mio cognome. Niente da nascondere. Ma mi dà fastidio dirlo. Devo dirti la verità. Caro Gabriele. Comunque ragazzi. Andiamo a mano. Oh. Qual cane. Il cane. Il cane. Il cane. Avete visto. Era la possibilità di andare. Di andare. Praticamente. A saltare. Ma dovevo scendere. Praticamente. Vedete un pochettino. Ah. Perfetto ragazzi. Vedete un pochettino. Cosa sta succedendo. Si scendiamo. Scendiamo. Voglio scendere. Voglio scendere praticamente di qua. E voglio cercare di salire. Vedete un pochettino ragazzi. Ci facciamo tutte. Le nostre. Incredibili. Mamma mia ragazzi. Il treno. Will stop a next station. Quindi molto molto. Gradevole. E molto molto bene. Guardate qui. La prossima stazione. Si fermati. 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 Però fermati. Fermati. Ecco qua. Si andiamo a cercare di scendere. Praticamente. Quindi ci siamo fatti. Un po' tutte le stazioni. Dobbiamo dire la verità. Quindi invece di andare. Stage per stage. Siamo andati. Praticamente. Col trenino. Il trenino ci aiuta. Praticamente. E qui sopra c'è quell'ascensore. Che dovevamo ovviamente visitare. Andiamo a pigliare l'ascensore. E vediamo un pochettino dove ci porta. Vedete un pochettino dal primo piano. All'ottavo. O al piano B. Praticamente. Vedete un pochettino. Siamo in una situazione un po' brutta. Con la macchinina. Praticamente. Che qui sopra. Conteneva delle ossa. Ossa di cane. Pensate un pochettino. Ossa di cane. Che purtroppo va a mangiare. Il povero cagnolino. Vedete un pochettino. Guardate alla cagnolino. Lo ricordate cagnolino? Ragazzi. Il nostro caro amico. Praticamente. Guardate il macchiniello. Il macchiniello. Che qui sopra ovviamente. Ridetiene. Detiene tantissime cose. Detiene tantissime ossa. Andiamo praticamente qui sopra. Andiamo a vedere ovviamente. Cosa fare. Lì sopra. Possiamo addirittura ragazzi. Completare lo stage. Quindi a parte che gli stage. Avete capito. Che sono rigiocabili. Hanno un fattore di rigiocabilità. Sicuramente molto alto. Perché ci sono tantissimi segreti. Da trovare. Praticamente. Ma il bello. Praticamente. Il bello è proprio questo. Il fattore di rigiocabilità. Oltre unito. Ovviamente. Ha una grafica. Di altissimo impatto. Di altri quartieri. Lì sopra. Ragazzi. Che c'è stickers. Ah. Mi ha risucchiato. Mi ha succhiato il cane. Praticamente. Vedete. Dopo che te lo andiamo a salvare. Abbiamo ovviamente. Vari slot di salvataggio. In base ovviamente. Alle memory card. Che abbiamo inseriti. Nel controller. Della nostra Siga Dreamcast. Una console. Veramente. Eccezionale. E fantastica. E ci troviamo qui ragazzi. Guardate un pochettino. Nel mondo. Della città. Ovviamente. Come vi ho detto. Gli stage. Possono essere rigiocati. Ragazzi. Guardate. Il piccolo cucciolo. Praticamente. Di scoiattolo. Che viene con noi. Arriva con noi. Ci racconta. Tante cose. Simpatiche. Carine. Perché. Tante cose. Simpatiche. Carine. Ragazzi. Perché. Ovviamente. Io. Dobbiamo compiere. Praticamente. Alcune. Incredibili. Missioni. Avete capito bene. Incredibili. Missioni. Fatte proprio. Fatte proprio. Per recuperare. Questi cuccioli. Vedete. Un pochettino. Guardate. Il bombolone. Praticamente. Da questa parte qua. Il macchinillo. Il macchinino. Guarda. Questa macchinina. Caro Gabriele. Ecco qua. Veramente. Queste qua. Sono fortissime. Ragazzi. Veramente. Fanno male. Fanno male. Qualcosa. Forse possiamo scacciarle. Con che cosa. Possiamo scacciarle. Con che cosa. Con il nostro. Un incredibile. Grido. Praticamente. E qui ci sono. Delle porte. Ragazzi. Non sappiamo. Se possiamo entrarci. Oppure no. Ricorda. Bloodborne. Pensate un pochettino. Bloodborne. Andiamo a vedere. Praticamente. Da questa parte qua. Cosa possiamo avere. C'è una cabina telefonica. Con addirittura. Un osso. Da fuori. Vedete un pochettino. Chi è che suona. Chi è che suona. Forse Gabriele. Forse. Ecco qua. Guardate un pochettino. Come stai. Come stai. Pronto. Sono il tuo amico. Giocherelloni. Che ti scrivo. Praticamente. E ti dico. Delle cose particolari. Andiamocene avanti. Praticamente. Andiamocene avanti. A queste parti qua. Vedete il grande urlo. Praticamente. Il grande urlo. E qui sopra c'è il pump. Il papilove. Il papilove. Quindi ce ne andiamo sul papilove. A vedere delle cose. Molto intriganti. E guarda qui. Guarda qui. Il mitico autista. Praticamente. Il mitico grande. Il mitico grande autista. Ma che sta per andare sotto il cane. Praticamente sotto la macchina. Praticamente assurdo davvero. Il grande cane. Che ci guarda un pochettino. La faccio un pochettino scocciata. Ma scocciata di che? Alla fine. Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto di brutto? Ovviamente. In questa casa. In questa abitazione. Il ragazzo scogliattolino. Con la coda. Praticamente con la coda tra le gambe. Dobbiamo dire la verità. Che si sposta. Si sposta. E ci dice tante cose. Ci dice tante notizie. Praticamente al fine di fare appunto che cosa? Ragazzi. Dobbiamo dire la verità. A raccontarci. A raccontarci ovviamente. Di potere ovviamente giocare. Ancora qui sotto. Forse c'è qualche cosa segreta. Ragazzi. Vediamo un pochettino. Cerchiamo ovviamente di capire. Dove possiamo ovviamente andarcene. Vedete? E ci sono addirittura delle colonne insolite. Ma purtroppo sono arrivati ragazzi. I cararmati. Ecco qua. I cararmati. Boom. Praticamente. Questo è fortissimo. Questo è fortissimo. Lo possiamo buttare per l'aria. Ma in realtà. E veramente vedete ragazzi. Dopo averlo buttato. Guardate. C'è la fontanella. La fontanella ovviamente ricca. Ovviamente di spruzzo. Vedete? Di spruzzo di acqua. Praticamente. Fatta proprio per farci recuperare. Farci recuperare. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Vedete ragazzi. Questo è incredibile. Ovviamente. Come potete vedere. È ossicello. Ossicello qui sopra. Quindi andiamo. Praticamente andiamo. Praticamente qui sopra. E ce ne andiamo. Ce l'abbiamo fatta. Certo. Certo ragazzi. Andiamoci quindi a quest'altra parte qua. Andiamo a prendere ovviamente questo altro elemento. E ci spostiamo. Ci spostiamo. In un altro ambito. Praticamente. Vediamo. Mamma mia ragazzi. Avete visto? La rotolata del cane. Abbiamo liberato un altro incredibile cagnolino. Un altro incredibile nostro amico. E ce l'abbiamo fatta. Grafica molto molto bella. E guardate l'ontananza che c'è ragazzi. Il pagliaccio. Il pagliaccio. Il pagliaccio col naso. Praticamente. Il naso pagliaccio. Praticamente. E un colpo in faccia. Dopo averlo sordito con il nostro incredibile. Bao Bao. Micio Micio Bao Bao. Ve lo ricordate ragazzi? Il Micio Micio Bao Bao. Andiamocene praticamente a questa parte qua. Ma avete notato che c'è un segreto. Avete capito bene. La mitica colonna. Che deve essere girata. Addirittura. Giriamo la colonna. E abbassiamo un altro elemento. Quindi cosa dobbiamo fare? Ovviamente non è difficile ovviamente capirlo. Cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo andare ovviamente a girare queste colonne. Al fine di far abbassare praticamente il livello della colonnuna. Ecco qua. Quindi ci sono queste colonne. Avete capito bene. Dove dobbiamo andare appunto interagire. Vediamo se riusciamo con questo aspetto. Praticamente giriamo questa ennesima colonna. Vedete un pochettino cosa succede. E si continua ad abbassare. Abbassiamo. Abbassiamo ancora. Scrivetelo ragazzi nei commenti. Se volete che abbasso. Con l'effetto cane. Con l'effetto cane. L'effetto cane puzzolente. Praticamente vedete un pochettino. Andiamo a girare. Andiamo ad abbassare ancora. E guardate qui. Siamo riusciti ad arrivare a un grandissimo obiettivo. Un obiettivo grande nella vita. Pensate un pochettino nella realizzazione della vita. Abbiamo fatto. Vedete ragazzi. Guardate un pochettino qui sopra. Cosa è successo. Veramente qualcosa. Veramente qualcosa di incredibile. Praticamente. Andiamo a premere B. E abbiamo preso gli ossicieli. Gli ossicieli. E siamo arrivati fine sopra. Incredibile. Ragazzi. Che dirvi di 102 Dalmatis Papi Rescue. Un gioco sicuramente idoneo. Per i più piccoli. Ma che io vi consiglio sicuramente di giocare. Anche se è ovviamente caso. Ma se siete dei papà. Se siete praticamente. Abbiamo preso la bandiera dell'Inghilterra. Stickers. Ovviamente andrà nella nostra collezione. Quindi pieno di segreti. Pieno di elementi sicuramente da scoprire. Ripercorre molto ovviamente le mitiche storie della Disney. Quindi che dirvi. Ve lo consiglio. Sicuramente sì. Il gioco ovviamente. Il valore. Se siete dei bambini. Se siete dei ragazzini piccoli. Sicuramente molto alto. Sull'otto. Ovviamente se siete degli adulti. Non credo che prenderete in considerazione questo gioco. Se non per giocarlo. Praticamente con i vostri parvoli. Praticamente i nipotini. O i vostri figli piccoli. Ecco qua. Ancora oggi. Un gioco molto molto attuale. Come potete vedere. Dalla grafica. Sicuramente di altissimo livello. Quindi ne vale la pena giocare. Assolutamente sì. Però per il resto. Ovviamente un prodotto. Sicuramente per i più giovani. Per i più giovani. Detto questo. Se amate ovviamente il canale. Ragazzi del Giocherellone. Sapete già che cosa fare. Potete iscrivervi. Abbonarvi. Mettere mi piace. Donare. Al fine di contribuire. Alla crescita del canale. Dove porterò con quei doni. Ovviamente sempre maggiori prodotti. E qualità migliore. Detto questo. Detto questo. Il canale del Giocherellone. Non è solamente YouTube e Twitch. Ma è ovviamente. Tutto quello che vedete nel box. Informazioni. C'è anche addirittura. Il canale di Discord. Dove potete parlare con tutti voi. Chat vocale. Condividere immagini. Video. E scrivere addirittura. Quindi veramente qualcosa di incredibile. Ma non solo ragazzi. C'è anche il negozio del Giocherellone. Con 207 gadget. In tre varianti. Ma anche. Anche ovviamente. Tantissimi altre cose. Tra cui ovviamente. Se volete comprare giochi a prezzo. Molto molto scontato. Potete andare sul link di Instant Gaming. Avete capito bene. Che trovate in box informazioni. Usufruendo degli sconti per gli iscritti. E detto questo. Se volete comprare uno dei miei tre libri. Pubblicati su Amazon. Andate nella descrizione. Di ogni mio video. E trovate i link ad Amazon. Pensate un pochettino ragazzi. Link ad Amazon. Dove potete comprare i miei libri. Ma addirittura. Leggerli gratuitamente. Avete capito bene. Se avete Amazon Candle. Unlimited. Quindi veramente qualcosa. Di incredibile. Di assurdo. Questo per farvi capire. Che state su uno dei social network. A livello videoludico. Non solo. Più grande. D'Italia. Ecco qua. Io vi ringrazio appunto. Per la visione. E vi auguro buona giornata. Ma ritornerò tra qualche minuto. Con altri incredibili video. Ciao. A tra poco dal vostro. Giocherellone. Ciao.